Angelo, il tuo amore, in Cristo profilo, presente operante della Santa Chiesa, ti ha fatto rinascere dall'Ampa e dello Spirito Santo, per formare un'unica famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fuoco della vita cristiana. Guarda la tua paterna, la violenza, la tua patria, a cui affidurare la portione del tuo pregio, fa che la comunità, parlo chiale di San Pietro Apostolo, cresca e si è riuscito in tempo santo e in posteggio, e renda vita testimonianza e coni d'amore, perché il mondo è bene, e in colui ben mandato il Signore nostro Gesù, e in vita del Mese con il Pesco. si porti l'acqua santa. Aspende il popolo di Dio e venirà in santo e d'amore, guida in scensi di Cristo, Maestro di Signore, nel cammino della verità e della vita, la forte battesimale alla ventra del servizio connesso. Mi pregiungo anche a te e a tutti, San Pietro Apostolo, padrone di questa comunità. Grazie. 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 Grazie.